Il programma della quattordicesima edizione di Città delle Cento Scale, il Festival Interdisciplinare Internazionale di Danza Urbana e Arti Performative nei Paesaggi Urbani, che si svolgerà a potenza dal 10 settembre al 29 novembre, è stato presentato nel capoluogo dai direttori artistici Francesco Scaringi e Giuseppe Biscaglia. Quest'anno il tema è dire tacere, abbiamo usato questa antitesi, questa contrapposizione per indicare un po' i tempi un po' gravosi, pesanti che stiamo vivendo, a incominciare dalla pandemia, dalla guerra, dalla crisi anche energetica. Quindi dire tacere significa un pochino mettersi in ascolto e cercare di abbandonare quelle che sono le rettoriche, le falsità, anche le imposizioni per cercare un minimo di autenticità e di verità. È meglio dire o meglio tacere, professore? Io ritengo che in questa fase sia meglio tacere riflettere per poi fare. L'azione deve essere sempre una conseguenza della riflessione. Invece notiamo che si chiacchiera molto, si è molto aggressivi, si cerca di impedire agli altri di parlare e si agisce poco per la stragrande maggioranza delle persone. Transiteranno dal capoluogo di regione oltre 100 artisti di 28 compagnie, previsti 48 eventi di teatro e danza, compresi laboratori e masterclass, incontri culturali e approfondimenti pubblici che abbracceranno un lungo periodo di tre mesi, durante i quali, tra il Teatro Stabile, il Teatro Don Bosco, il Museo Adam Esteanu, diversi istituti scolastici di potenza e spazi pubblici dei quartieri, si alterneranno artisti di fama internazionale. Anche quest'anno il festival è ricco, è molto articolato, noi agiamo sia nell'ambito del teatro ma anche della danza, per alcuni versi anche della musica più vicina, più contemporanea, cioè un insieme multidisciplinare, interdisciplinare che vuole un po' rappresentare quello che oggi avviene in Italia, in Europa e nel mondo, perché avremo anche compagnie che verranno da extracontinente. Si parte sabato 10 settembre al Teatro Don Bosco con la compagnia spagnola Agrupación Señor Serrano in The Mountain, il via alle 20.30.